Lui, presidente della regione Bertanto Tempo, adesso non lo è più il senatore, ma per noi è e resterà per sempre il presidente, Tutò Cuffaro! Ti prego, Piero, ti prego, se no non entra. Buonasera! Che succede? No, no, basta. Buonasera, buonasera. Tutto bene? Tutto basa basa, giustamente. Come va? Innanzitutto ringrazio tutti i siciliani che presenti in questa bella infrastruttura turistica. Fatemi sentire il calore. Ci sono, ci sono, ci siamo. Sono tutti calorosi, ce ne sono un po' che sono tutti comunisti, chiaramente. E' questa parte, come va? Eccomo, mangio, mangio un po' di cannoli passando di spiana dagli albanesi sotto un pochettino. Sta bene, sta bene, l'importante è questo. Io vorrei farle qualche domanda, posso? Come non faccio, faccio. Allora, volevo chiedere, che sta male, oddio. Un giudizio c'è un ponte. Ma io il ponte credo che sia un'opportunità di vacanza per tutti gli italiani, non solo per i siciliani. C'è il ponte dell'Immacolato, il ponte del Pasquale, c'è il ponte di Ferragosto. No, io veramente parlavo di un altro ponte, Presidente. Ah, il ponte che mi ha messo il dentista Dendi per mangiare meglio. No, 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 mi dispiace se ho avuto problemi i denti, però parlo del ponte sullo stretto. Ah, cosa vuole, se non è chiara, cosa vuole sapere su questo ponte? Colpa mia. Allora, volevo sapere per esempio, secondo lei vale la pena fare un ponte nuovo per i turisti? Ma sicuramente sì, se tutti i turisti vanno a Firenze a guardare il ponte vecchio, figuriamoci da noi quando avremo il ponte nuovo. Ah, beh, eccetera, vabbè, cosa è sua, applausi. Io vorrei aspettare tra l'altro un'arancia in favore del turismo. Un attimo, cosa vuole aspettare? Vorrei aspettare un'arancia in favore del turismo. Si dice un'arancia, vero? Lei che è comunista dice un'arancia, io che sogno della Greggendina, a Rebera c'è la città dell'arancia, dico un'arancia. Ah, sì, Giuseppe. Quindi, siccome sono appunto dell'Agrigendino per l'anno di turismo, ho pensato alla Valle dei Templi, che è così affollata di turismo. Allora ho pensato di allungare l'orario di chiusura di mezz'ora, così avremo i templi supplementari. E se c'è bisogno anche calci di rigore. Vabbè, sì, sì, certo, certo. E che fa, lo vogliamo smettere con questo umorismo. Io ho un'altra domanda, ce l'ho. Abbassate un po' il volume, signor Piero. Se no, vostra ragione non si può scordare. Bravo, ci sta. Allora, un'altra domanda seria però su questo ponte. Una curiosità. Ancora con Ponte, che vuole sapere? Eh, volevo sapere, una volta costruito questo ponte, no? Come facciamo a sapere se reggerà? Questa è una bella domanda, ma già io quando ero presidente avevo trovato la soluzione. Eh, dica, dica. Io ho pensato di assumere tutti gli immigrati clandestini che ci stanno in Sicilia come collaudatori del ponte. In che senso, scusi? Nel senso che intanto diamo posti di lavoro a questi immigrati, come il collaudatore, che vuol dire collaudatori del ponte? Che una volta fatti al ponte, pigliamo questi immigrati e facciamo passeggiare per due o tre ore. Così, se il ponte tiene, abbiamo risolto il problema del ponte. Ho capito. Se non tiene, invece? Abbiamo risolto il problema degli immigrati. No! Non può dire queste cose. Scherziamo, scherziamo. Io voglio il pene di tutti questi immigrati. È una cosa... Voglio il pene di tutti questi immigrati. È una cosa che viene dal cuore, ma non solo degli immigrati, ma anche del pubblico. Il pene del signore Erasmo, ci facciamo un applauso. È una cosa che viene dal cuore. No, ce la voglio accanto. Vabbè, dice tanto queste cose che scordavo, quindi che andava a fare, giusto, invece di buttarlo? Allora, io voglio salutare tutti quanti, come si dice, siccome sono uno devoto alla Madonna, mi auguro che tutti i santi padroni che ci stanno in Sicilia possano aiutare noi siciliani a vivere sempre meglio. D'altra parte, come si dice, signorina, tutti i santi aiutano tranne uno. Quale? Tandoro, auguri e arrivederci! A lei soprattutto! Laura, io ti ringrazio.